No, loro sono andati avanti, non mollavano, comunque hanno giocato bene, hanno fatto le cose da bene e noi piano piano non siamo più riusciti neanche a sfruttare i momenti buoni e così piano piano, da loro andava via il diabolismo, da noi iniziava un po' e mano a mano abbiamo fatto peggio le cose, diciamo, rispetto a loro. Difficile, un po' troppo difficile. Ma niente, è stata una partita giocata da noi, forse per sette e mezzo, poi l'abbiamo un po' mollato, non so perché, comunque si poteva fare, ci credevamo, solo che probabilmente in questa squadra qualcosa manca, non abbiamo ancora capito cosa, si è visto oggi, ci credevamo. Forse all'inizio abbiamo detto meglio e poi abbiamo sbagliato tanto, anche altri abbiamo sbagliato, perché sbagliato forse hanno fatto più facile, però comunque penso che non è stato tutto solo lì, secondo me abbiamo in un certo momento mollato nell'attacco, non abbiamo più tirato forte con i palloni da mettere giù dopo la difesa, cambia palla, intanto erano in crisi, però non so, io più che il servizio ho visto, perché loro si è giocato con tutti i centrali, però alla fine il femminile giuro arrivava sempre, non è che si è visto grandi muri a uno da una parte o all'altra, era più che altro secondo me l'attacco dopo la difesa, forse qualche muro in più oltre. Parlando a livello personale, hai visto oggi che hai rischiato molto sul servizio e hai raccogliato anche molto però, oltre ad aver fatto qualche errore hai bisogno di raccogliere molto e hai fatto un vuoto. Sì, però ho anche sbagliato tanto, quindi in certa notazione non devi sbagliare e quindi è va bene fare esse, è importante, però magari io sbagliare un po' di meno, di solito riesco a bagliare un po' di meno, invece se non so, vabbè comunque, per me ho sbagliato non è finita, non so, mandiamo giù anche questa e poi ricominciamo da domani, comunque c'è ancora una cosa importante per la società in ballo, quindi anche per noi, quindi giochiamo e speriamo finalmente di fare qualcosa di buono.